Cercare di fare qualcosa per migliorare quella che è una situazione inaccettabile sul piano della sicurezza del lavoro. E in questa circostanza volevo anche rivolgere un pensiero commosso, affettuoso a tutti coloro che volevano bene a Lalla e la RIM. Ma questo, due mesi fa, era l'Adorazio, se ricordo bene il suo nome, e così via, ogni giorno. Quindi occorre decisamente, è stato fatto molto su questo piano, ma occorre fare molto di più evidentemente. Evidentemente non è stato un saluto di circostanza, quello che Mario Draghi ha rivolto agli italiani prima della pausa estiva. Tutt'altro, in dieci minuti scarsi ha toccato tre o quattro cose fondamentali. Certo la pandemia, certo l'economia, ma quello che più gli sta a cuore, ha detto, è il lavoro. Anzi, le persone che di lavoro muoiono. E prima di finire, sollecitato dal cronista... Il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno. Un Draghi di governo e di lotta, insomma, che fa sue le istanze che vengono dal basso, da chi fatica ad arrivare a fine mese. Anche per il virus, che non smette di preoccupare e potrebbe sabotare la ripresa. Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera vadano ancora meglio. Perché continuano ad andare meglio, però, e questo è un messaggio che voglio lanciare chiaramente, e lo dico un po' a tutti noi, a tutti gli italiani, vaccinatevi e rispettate le regole. Abbiamo iniettato più dosi di Francia, Germania e Stati Uniti, fa notare Draghi, che però, diversamente da molti predecessori, non ama gli spot, va al sodo. Ecco perché quando gli chiedono quanto durerà Palazzo Chigi non si scompone. Contano solo i risultati, dice, e comunque... L'orizzonte è nelle mani del Parlamento, quindi anche su questo non è che posso esprimere visioni, vedute, niente. Sono qui, sono stato chiamato per far questo, cerco di farlo al meglio e poi vedremo, ecco.